Ciao Internet! Ci abbiamo di nuovo le quote rosa, e che quote rosa qua! Con Silvia Zanella parliamo oggi del futuro del lavoro, ma dopo la sigla. Ciao Internet! Silvia Zanella, ciao! Buongiorno, ciao a tutti! Allora, autrice di libri in realtà principalmente legati al social recruiter, di cui l'ultimo poi lo vediamo a breve, e adesso in EY, scusami, fai roba di HR, ma adesso lo dici tu che cos'è la parte giusta, vero? Tutto perché è lunghissima. Job title infinite! Cosa fai? Cosa fai? Io mi occupo di creare le condizioni per un buon ambiente di lavoro, quindi il mio job title è molto altissimante, ed è Head of Employer Branding and HR Communications per EY, Italia, Spagna e Portogallo, ma in realtà quello, diciamo, che mi interessa è per sì che le persone vengano a lavorare da noi in maniera sensata e che siano contenti di venire a lavorare da noi e che ci stiano il più possibile. Ok, non guardare lì, guarda là. Guarda là. O se no, guarda me, che lo so che è peggio, però va bene uguale. Allora, partiamo dal libro, dai, anche perché sei molto prolifica come autrice di contenuti, eccetera, e il libro è l'ultimo, l'ultima tua fatica, è qua, Franco Angeli, insieme a Anna Martini, Digital Recruiter, Social Network, AI, Gamification e Strumenti Tech per i Professionisti dell'HR. Esatto. Più corto o no? No, no, siamo, come dire, ci piace molto parlare, molto scrivere. Lì sopra c'è il QR code, se volete andare a vedere il link che c'è lì. E quello che abbiamo cercato di fare è stato rivedere un'edizione aggiornata di Social Recruiter, che era uscito solo due anni fa, ma che già di fatto era molto invecchiato, perché chiaramente... Testo base, peraltro, c'è proprio... No, davvero, nel senso, era uno dei primi testi che cercava di... E ci riusciva di riordinare tutto quel marasma del spammo gente su LinkedIn. Esatto, questo era un grosso problema sia lato candidati sia lato recruiting. Quindi il nostro obiettivo era fornire ai recruiter principalmente, ma ai candidati dall'altra parte, degli strumenti e soprattutto una consapevolezza rispetto a come utilizzare il digitale. A distanza di due anni è cambiato molto anche il mercato, sono state introdotte nuove funzionalità sui social network da un lato, ma anche proprio nuove tecnologie. Abbiamo ritenuto necessario andare ad aggiornare quel testo, che è rimasto, diciamo, invariato nell'impianto, ma che ha molti nuovi capitoli dedicati alle nuove tecnologie, specificamente per la funzione delle risorse umane. Ok, però avevamo detto, parliamo di futuro del lavoro. Ed è divertente perché se parli a me di futuro del lavoro, per me il futuro del lavoro è il non lavoreremo più, ci sono le AI. Ma a parte quello, è un tema enorme, è un tema sterminato, l'idea di parlare di futuro del lavoro, anche perché ha tantissime componenti. Da dove iniziamo? Cioè, come ti piacerebbe in... Cioè, se tu dovessi parlare di futuro del lavoro, ti dico, ciao, parlami del futuro del lavoro, come inquadri? Allora, il futuro del lavoro, diciamo, chiaramente non è prevedibile. E a differenza di tutto quello che vi potranno venire a raccontare i guru, gli istituti internazionali, le ricerche e quant'altro, in realtà nessuno ha un'idea molto chiara di quello che accadrà, anche perché tutto si sta svolgendo in maniera veramente esponenziale. Però c'è un macro tema che è interessante per me, ovvero il fatto che finora l'attenzione, il focus, è stato dedicato ai macro scenari. Quindi alla tecnologia, l'automazione, la robotizzazione, tutto ciò che ha impatti, diciamo, dal punto di vista occupazionale e tutto quello che può riguardare le macro politiche. Ovviamente questo è stra interessante. E stra necessario, probabilmente. E stra necessario. Ma dall'altra parte ha il futuro del lavoro in realtà già qui. Ok, sì. E B, dobbiamo dare alle persone gli strumenti e la conoscenza per capire come orientarsi, proprio perché lo possiamo, abbiamo comunque degli ampi margini per cominciare a disegnarlo insieme. Ok. E da dove si inizia? Allora, inanziotto si inizia dalla consapevolezza. E questo, diciamo, deve chiaramente partire dalle aziende, dalle organizzazioni, che in primis devono rivedere i propri modelli organizzativi, i propri modelli di leadership, le proprie modalità di assumere, reclutare e andare a tenere, diciamo, in casa le persone. E poi evidentemente ha anche un portato rispetto a come deve cambiare il modo di lavorare delle persone. Ok, certo. Che quindi è da un lato più responsabilizzato e più imprenditoriale. Sì, l'imprenditore di se stessi. Sì. In senso buono, ovviamente. In senso buono, però, che non è mettere su LinkedIn presso me stesso. Laureato all'università della vita, l'imprenditore presso me stesso. Ecco, non è quella cosa lì, ma è semplicemente cogliere tutte le occasioni per avere una crescita anche personale, no? Quindi non un meccanismo legato, diciamo, anche alla concezione del posto di lavoro fisso in cui io eseguo un ordine che mi viene dato da un altro e spengo, diciamo, il cervello per tutte le ore in cui sono a lavoro, ma ci porto del mio. E questo chiaramente ha degli impatti anche, diciamo, sulla motivazione da un lato, ma anche sulla capacità del manager di defocalizzare l'attenzione sul cartellino, ma sul risultato. In realtà una delle cose che ho visto interessanti è un approccio che si sta più o meno diffondendo in cui il dipendente ha un approccio attivo al suo miglioramento personale, alla sua professionalizzazione, mentre forse l'approccio a cui ero stato abituato nel contesto, io ormai sono 20 anni che lavoro, nel contesto in cui ero, era che poche persone avevano un approccio estremamente attivo al proprio miglioramento, con corsi, con aggiornamenti, con studio, con guardare al di fuori del proprio ambito. Adesso mi sembra, con i nuovi ragazzi che sono arrivati da noi, mi sembra che sia un po' più pandemica questa cosa, del bisogno, necessità e automotivazione nel continuo aggiornamento. Da i sistemi online di Coursera, Linda, fino a proprio corsi. È una mia impressione o tu che lo vedi da dentro è proprio qualcosa di endemico? È qualcosa di endemico che ha origine da una serie di fattori concomitanti. In primis è sempre più chiaro che alcuni task, alcune attività, potranno facilmente essere rese automatizzate. Ok. E quindi evidentemente, e ritorniamo al tema di prima, quindi è vero che i robot non è che ci uccideranno, però sicuramente si prenderanno carico di lavoretti, o comunque pezzettini di lavoro che grazie a Dio, dei quali grazie a Dio noi ci sbarazzerebbero. È chiaro però che questo aumenta invece la sofisticazione di quello che viene richiesto a noi come umani. E per aumentare evidentemente hai bisogno di continuare ad imparare. Quindi sta crescendo la consapevolezza che non è che puoi sperare, che è quello che hai imparato nei primi vent'anni della tua vita, tra i tre anni della materna fino all'università, ti possa poi bastare per i rimanenti 40-45 anni. Quindi già il fatto che sia di gran lunga aumentata la vita lavorativa da un lato e dall'altro che le competenze vadano scadendo con grande velocità, fa aumentare la consapevolezza da un lato delle persone e dall'altro delle aziende della necessità di riformarsi quotidianamente. Questo porta a sua volta altri due tipi di azioni. Le aziende hanno ben chiaro, o comunque devono cominciare ad avere ben chiaro, il fatto che ci sia la necessità da un lato di fare un upskilling, quindi di andare ad elevare diciamo il bagaglio di competenza delle proprie persone e da un lato proprio di riskilling. C'è da insegnare alle persone qualcosa di nuovo continuamente, da mantenere aggiornato il bagaglio di conoscenze delle persone. Assolutamente e dall'altra parte, da parte delle persone, c'è il fatto che sapere nuove cose continuamente va a migliorare la propria occupabilità. Quindi rispetto a un tempo, come dire, ci si freggiava del proprio titolo di studi o del proprio bigliettino da visita pensando di essere insostituibili e che comunque si avrebbe sempre avuto diciamo una nuova opportunità. Adesso comunque c'è molta più competitività e anche lo scenario è davvero cambiato, quindi quello che sapevi fare dieci anni fa non necessariamente, anzi quasi mai, funziona anche adesso e quindi c'è la consapevolezza di poter andare a investire sulla formazione come strumento per essere sempre impiegabili lungo un percorso lavorativo che come dicevamo prima non è più di 20-30 anni ma diventa di 40-45. Altre due cose che ho visto, ma ancora una volta io sono molto diffidente rispetto a quello che vivo io, mi accorgo di vivere in una bolla molto piccola. Due cose che ho visto sono, uno, il fatto del dipendente infedele tra apicini, cioè non è più un'azienda per la vita ma si tende a fare un sacco di differenti esperienze, si tende a crescere principalmente cambiando spesso ruolo e azienda e l'altra, il fatto che è praticamente impossibile, il rovescio della medaglia dall'altra parte, non conosco praticamente più nessuno che è in grado di rimanere in una posizione per più di tot tempo senza dover cambiare, senza proprio doversi aggiornare in maniera costante e totale, cioè senza un drastico cambio delle competenze. Anche queste sono cose più o meno solite o è solo nella tecnologia dove io mi trovo? No, no, allora la tecnologia ovviamente è fatta da apripista, da acceleratore anche perché ha fatto vedere che sono modalità più produttive e che quindi ti permettono di portare più innovazione, di ottimizzare il tuo modello di business e soprattutto di avere, diciamo, il cliente e di mettere davvero il cliente al centro, quindi è dal continuo riaggiustamento anche di quella che è la tua proposizione di valore che riesci poi a soddisfare in maniera migliore il cliente. Il cosiddetto job hoping, quindi il saltare da un lavoro all'altro. Oddio, c'è un nome anche per questa roba. Tutto c'è un nome, specialmente in inglese. Ma che roba terribile. Cioè il salto del lavoro, il salto del lavoro, saltellare tra i lavori. Il salto tra un lavoro e l'altro, è sempre esistito. Sì, certo. Specialmente per i lavori più commerciali e in qualche modo per quel tipo di competenze più rare in cui evidentemente eri anche molto più cercato. Adesso invece sta diventando qualcosa di costituzionalmente costitutivo, scusate il bisticcio, proprio perché diventa importante avere continuamente, come dire, esposizione rispetto a mercati, modelli e processi differenti. Una stessa azienda difficilmente può offrirti nel lungo periodo una varietà. A meno che non sia disposta ad essere agile a sua volta. A meno che non sia una grande consulting in realtà dove giri, ma anche lì rischi di trovarti in una verticalità che fa sempre... Certo, perché poi appunto scatta il meccanismo della specializzazione e per appunto questa ragione rischi in qualche modo di andare molto verticale. E quindi sicuramente è qualcosa che nasce dalla tecnologia ma si sta espandendo in maniera molto forte. Dall'altra parte penso anche che sia proprio cambiato l'aspettativa rispetto a quello che un'azienda può offrirti, no? Una volta, come dire, i nostri genitori arrivavano lì, cominciavano un certo tipo di impiego presso una certa azienda e verosimilmente 30 anni dopo se ne uscivano con l'orologio d'oro piuttosto che la targhetta, no? Adesso non voglio dire che si passa alla logica del dipendente del mese stile... Ok. Come dire, McDonald's. Ma dall'altra parte c'è proprio una più ampia lucidità rispetto a quello che io come dipendente collaboratore ti posso offrire e quello che tu mi puoi offrire come azienda, no? Quindi c'è un rapporto che da un lato si fa più transazionale. Sì. Come dire, c'è uno scambio che io posso dare a te e dall'altro c'è invece, ed è questa secondo me la direzione che dovremmo più prendere, un tema più valoriale. Cioè vengo da te perché al di là della possibilità di mettere in campo le mie competenze trovo un ambiente di lavoro che corrisponde diciamo al mio set valoriale. Quindi è un po' la fine di quel motto che non diremo da dove è origine, ha visto dove lavori, del rise or die, cioè il fatto del se salti due livelli di promozione perché non stai crescendo ti parcheggio lì per tutta la vita e te ne vai. Allora quello secondo me è appunto un tipo di modello che può funzionare ed è funzionato fino adesso in maniera, come dire, efficace rispetto soltanto ad alcuni tipi di organizzazione. Non lo vedo applicabile nel resto delle organizzazioni. Ok. Tutto questo l'hai citato un paio di volte. Io ho fatto un... Tu che mi vedi da un po' di anni. Oddio ci conosciamo davvero da quando eri bambina perché sennò ovviamente... Della stessa età quindi. No, 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 assolutamente sei incredibilmente più giovane e sei noto. Ok. Non voglio essere picchiato quando torno a casa o quando finiamo a spegnare. Allora, tu hai visto che il mio percorso è stato un po' particolare. Due minuti di cazzi di Matteo, va bene uguale. In cui mi sono spostato molto negli ultimi 4-5 anni con una serie di scelte, tanto dalla tecnè al pathos, all'empatia. E sempre più spesso però vedo che il livello empatico, in realtà non è anche il livello empatico, il livello transattivo, di transazioni all'interno dell'azienda è quello che davvero fa la differenza. Non è che per caso ci stiamo focalizzando sulle tecnologie, il remote working, la chat, il... E stiamo perdendo di vista in realtà la parte organizzativa forse più difficile da quello che sto... Più difficile per me è quella umana e di come gestire i rapporti. Guarda, è proprio per questo che a me affascina il futuro del lavoro, perché mette, come dire, in campo queste contraddizioni in maniera molto netta. Prima non era così, così chiaro, no? Quindi è chiaro che la tecnologia è un fattore abilitante per tutta una serie di fenomeni, quelli che citavi tu prima, remote working, smart working, e evidentemente ci dà la possibilità di lavorare in maniera più efficiente. Però è anche quella stessa tecnologia che ci permette di far vedere cosa ci manca, no? E quello che ci manca è la relazione, l'umanità, l'ascolto, l'empatia, la collaborazione. Quindi abbiamo poi il focus che si sposta dall'execution alla partnership. Cioè io voglio lavorare con te, voglio in qualche modo... Il concetto di partnership all'interno dell'azienda? Sì, sì, che è diverso da leadership, no? Quindi evidentemente c'è ancora una struttura gerarchica che per molti motivi, come dire, funziona. Ci siamo abituati fino a bambini a rapporti di potere asimmetrici, però per molti versi è anche poco produttiva. Quindi chiaramente perché diventi produttiva serve un marcatissimo cambio di stile. Quindi il modello del command and control che deriva dall'ambito militare, quindi io ti dico cosa devi fare e ti controllo, no? E ti controllo e vado, come dire, a vedere nel micromanagement quotidiano quello che stai facendo, quello che stai facendo. Ha poco senso di esistere proprio perché quei tipi di task lì saranno automatizzati. Quindi ha molto più senso concentrarsi sulle operazioni di valore che le persone possono fare e per farlo devi ascoltare le persone, essere empatico rispetto alle persone, sollevare e dare loro il coraggio di esprimersi. Perché poi, appunto, laddove non c'è diversità di punti di vista, ne parlavamo prima di iniziare questo momento di confronto, non c'è progresso. Sempre più spesso, quindi, in realtà, l'umano all'interno dei processi produttivi viene utilizzato, viene sfruttato come motore algoritmico empatico. Cioè, nel senso, la tecnologia progredisce, ma non a mano le cose vengono fatte, l'umano serve per tenere gli umani insieme. Lo skill forse più importante da capire è come collaborare in modo efficiente, più che non come lavorare in modo efficiente. Beh, ovviamente, come dire, una domanda da un milione di dollari. La vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. Esatto. Le domande grazie al cazzo sono normali. Allora, provo a sistematizzare. Allora, c'è un tema di lavoro algoritmicamente predisposto. Ok. E c'è un tema di lavoro che non può essere algoritmicamente predisposto, almeno per lo stato dell'arte attuale. Quindi non so dirti se sarà così fra 20 anni. Però così sicuramente in questo momento non siamo ancora in quella fase. Per quello non algoritmicamente esposto dobbiamo fare un momento di riflessione molto seria, ed è per quello che mi interessa molto il futuro del lavoro, perché è esattamente qui che possiamo imparare a disegnarlo insieme, a governarlo. Quindi possiamo imparare e possiamo capire cosa vogliamo delegare all'automazione e cosa invece vogliamo tenerci in casa come competenze, come relazione e come capacità di collaborare con gli altri e di avere un valore che sia vissuto e partecipativo. Quindi tutto ciò che può essere automatizzato verosimilmente lo sarà e infatti alcuni mestieri scompariranno. Ed è così. E sarà, come dire, un impatto non indifferente. Però c'è tutta una serie di altre cose che ancora non esistono e che ancora non sappiamo immaginare, ma che dobbiamo sicuramente predisporci, diciamo, mentalmente a capire in modo tale da andare a indirizzare anche i nostri sforzi, no? Un corso che dovrebbe fare un manager per adattarsi? Allora... Se dovessi scegliere solo uno? Predisposizione al cambiamento. Uh, ok. Sicuramente, perché diciamo tutte le tecnicalità secondo me sono imparabili. Poi puoi essere più o meno predisposto, ma insomma più o meno la tecnicalità in un modo o nell'altro te la porti a casa. Invece l'attitudine all'accoglienza, l'attitudine al diverso, l'attitudine al saper proiettarsi in un ambiente differente è qualcosa che ti richiede un'apertura e un tipo di atteggiamento e di mindset che non è così scontato. Mi ritrovo, ancora una volta, un caso non fa minimamente testo, però mi ritrovo io, quello che sto studiando per miglioramento professionale mio da qui a un tot, sono una serie di corsi di design thinking ma intesi come la capacità di fare facilitatore, la capacità di facilitare processi di maglieutica delle idee. Assolutamente. Sarà che io sono fortunato, cioè qui in full ho sempre scelto, io o le persone che le scelgono per me, persone più brave di me a fare qualcosa. È stata un'ottima idea. Ma secondo me è l'unico modo che ho io di crescere, perché ci si dimentica spesso che oltre al fatto del fatturato da far crescere o meno, dal mio punto di vista, e parlando con altri piccoli imprenditori, le full sono 30 persone mal contate, quindi non siamo star corporate, ci si dimentica del fatto che alcuni tipi di skill personali o tecniche all'interno dell'azienda servono per far crescere chi ha fatto l'hiring, non la persona che entra, e ho imparato davvero un sacco di cose, quindi mi ritrovo molto. Ma quindi cosa deve imparare qualcuno che vuole sopravvivere alla rivoluzione dei computer quando ci uccideranno tutti? Allora, deve imparare ad imparare, prima cosa. Quindi deve mettersi nell'ordine delle idee che non è che ha preso il suo bel pezzo di carta e adesso è a posto per la vita, ma che sarà un continuo apprendimento, che lo accompagnerà fino alla tomba. Questo è il primo messaggio positivo. Che bello! Il secondo tema è che dovrai imparare a gestire il tempo in maniera diversa. Perché se io la prima cosa che faccio al mattino è controllare la mail e l'ultima cosa che faccio alla sera è controllare la mail, non mi stacco mai durante il weekend, non mi stacco mai durante le vacanze, laddove è una scelta consapevole e, come dire, vissuta, ci può anche stare. Ma forse non è esattamente il modo migliore di pensare, non tanto a un bilanciamento, perché non è più pensabile pensarle come dimensioni separate. Quindi non è che puoi bilanciarle, è qualcosa che è intrinseco, no? E quindi si parla più di integrazione. Sì, il burnout, dicevano che la malattia del ventunesimo secolo sarà probabilmente il burnout. Eh, ma ci sta, perché in questo momento non abbiamo proprio gli strumenti cognitivi per capire quando staccare, per capire quando magari stanno facendo una cosa diversa. Eh, ma non è facile, eh. Ciao! Abbiamo una diapositiva! Abbiamo una diapositiva! Però magari tu ne hai molto godimento e magari trovi anche la modalità di apprendere. Un figlio godurioso, no? Di certo è oneroso dal punto di vista cognitivo. Certo, ovviamente. Ed emotivo e familiare e di gestione di una serie di altri carichi, impegni e interessi, no? Quindi integrare le due dimensioni sarà molto complicato e bisognerà imparare a farlo. In questo le aziende ci possono aiutare. E un'altra dimensione che bisognerà imparare a gestire e governare è la dimensione degli spazi. Quindi imparare a lavorare in spazi non tradizionalmente allocati è un tema. Perché ti fa, come dire, essere permeabili ad altri stimoli, fa sì che tu possa imparare anche mentre stai facendo un'attività completamente diversa e che tu possa riportare nel tuo vissuto professionale qualcosa che invece fa parte della tua natura invece più privata, no? E questo può essere interessante. E poi c'è un tema grande come una casa che ovviamente è il tema dell'identità e delle relazioni, no? Cioè una volta arrivavi lì e la classica domanda, specialmente a Milano, è di cosa ti occupi, no? E che va benissimo, però di cosa ti occupi varierà moltissimo. E quindi laddove io venga licenziato piuttosto che decide di fare un'altra cosa, a quel punto non sono più io, ho un'identità, biglietto da visita correlata e devo imparare a capire che invece posso avere un percorso di carriera molto più frammentato, molto più incidentato, molto più volutamente stoppato. Proprio perché è molto lungo e quindi forse ha più senso impostare anche le... Notifiche, ogni tanto notifiche, vabbè. Impostare anche, diciamo, la propria vita in maniera diversa ed è questa la grandissima occasione che ci dà la riflessione sul futuro del lavoro. Due cosine così, giusto? Sì, in simpatia. Per pensare la sera se non avete nulla a cui pensare. Esatto, perfetto. Considerando che siamo arrivati più o meno a metà del nostro... Sono 23 minuti di registrazione. In generale dopo i 45 iniziano a morire male loro. Ok. Non è vero, poi sono carinissimi, anzi. Se siete arrivati fino a qui, la parola del momento è scontrino. Questo è un altro dei giochi. Quelli che arrivano a un certo punto commentano scontrino, così non sappiamo che fino a qua erano vivi. Ok. E funziona, lo fanno davvero. Chiedi. C'è un altro tema con cui mi piacerebbe. Beh, una cosa per cui in realtà sappiamo tutti e due che abbiamo lavorato in ambienti affini. Tu prima ti occupavi proprio di hiring un po' più hardcore, mettiamo Erina D'Ecco, lo possiamo anche dire. Sì, come no, certo. Tra l'altro nel mondo, io adesso lo posso dire, tanto il tuo dottore di lavoro mi odia già, non è un problema, ma nel mondo di tutta la parte di marketing, comunicazione, eccetera, eri la figura del hiring, eri la figura di tutta quella parte di HR, più o meno di riferimento, hai sempre parlato di questi temi. Quindi vogliamo parlare un attimino di social recruiting e soprattutto di employer branding, perché è una di quelle cose che noi stiamo facendo sempre più spesso come azienda, quindi sono interessato nel dirlo. Hashtag ADV. Non è vero. Ma soprattutto... Beh, ha molto a che fare con la reputazione. È totalmente intrecciata con la reputazione. Nel nostro caso, sì, la reputazione aziendale, uno calcola che il fondatore del Reputation Institute non parla nemmeno più di reputazione, né, ma parla di reputazione, né. Certo. Una delle reputazioni più importanti. Esatto. Vogliamo dirlo che otto, cioè, otto volte su dieci, chi sarà assunto nei prossimi dieci anni sarà assunto sulla base di qualcosa di digitale? Ho scelto digitalmente, ho analizzato digitalmente, ho trovato su LinkedIn? Sì, sì, possiamo già dirlo serenamente, nel senso che chiaramente io ho avuto l'enorme fortuna di occuparmi nei sedici anni precedenti appunto di recruiting, no? Quindi ho cominciato con Joe Pilot, poi sono stata in Monster, ho fatto Xing ad Equitalia. No, Monster mi mancava. Eh sì, sì, io non mi sono fatta mancare niente dal punto di vista di... Ah, che Xing, madonna, Xing, che flash. Che flash. Madonna mia, che flash. Che flash. Mi LinkedIn e per un po' aveva rischiato di essere il vero LinkedIn. Eh sì, poi invece si è schiantato miseramente, ma come dire... Happens. Happens. E poi sono passata in Adequitalia e infine sono passata in Adequo Group Global a Zurigo. E quindi è stato un enorme privilegio per me, perché ho proprio visto cambiare totalmente il mercato davanti a me. Sei entrata con le telefonate e sei uscita con LinkedIn. Sono entrata con questa magnifica sigla RPQ. Tu te lo ricordi l'RPQ? Ecco, no, non me lo ricordo. Vedi che già lo pensi in italiano? No, esatto. In inglese invece no? Erano quei magnifici annunci similmortuari. Oh, mamma mia. Ricerche di personale qualificato. Mamma mia, sì, ok. Ecco, io quando sono entrata in Joe Pilot, correva l'anno 2003, il Corriere della Sera aveva un inserto di 64 pagine. È vero. Di ricerche di personale qualificato. Quindi erano tutti questi, come dire, quegli annuncetti che magari vedete ancora adesso. E il disoccupato comprava il... E si scarruttava quei 64 pagine. Faceva... I cerchiolini e telefonava. Oh, lo facevi per gli amici. Trovavi la ricerca ed era il passaparola del c'è questa ricerca, dillo a tizio. Esatto. Oh mio Dio, era in pool, non era in push, è vero? Era totalmente in pool. È cambiato il paradigma, totalmente. Non mi sento vecchio. Eh no, anche io mi sento vecchio, però per me è un enorme privilegio perché io mi ricordo quel mondo lì e in qualche modo nel mio micro ho contribuito a scardinarlo a favore di quella che per me era una maggior democratizzazione dei processi di selezione. Perché innanzitutto facevi emergere delle offerte di lavoro che magari spesso erano tenute nel cassetto delle HR. E in seconda battuta dà via tutta la possibilità di utilizzare il digitale per trovarlo. Quindi tornando alla tua domanda a Monte, cosa succederà e cosa sta già succedendo? In primis sta succedendo che il, come dire, la cassetta delle lettere, il recruiter, grazie a Dio, non ha più, come dire, il cartaceo, non ha più il fax, non ha più tutta una serie di strumenti meravigliosi, non ha più la cassetta delle lettere in cui viaggia. Io a te non sopravviveremo per vedere il fax morire, lo sai, è vero? Kobol, Cix, DB2 e il fax saranno qui quando i nostri figli moriranno. Che scenario, i treventi, voglio morire. È davvero. Kobol, Cix e DB2 sono come la regina Elisabetta, sono immortali. Sì, diciamo che hanno meno fascino e meno colore, mettiamola così. Almeno la regina, vuoi dire. Ha un chiede di costume interessante. E quindi verremo selezionati sulla base della nostra... Presenza digitale. Presenza digitale, sulla nostra digital fingerprint o footprint. Esatto, quindi il tema è passare da un sistema di, come dire, sottomissione, Submit, un CV, che è per definizione un documento statico che va uno a uno, cioè io lo mando a te, tu lo reggi e ritorna a me, ha una valutazione invece di una serie di elementi della tua professionalità e della tua personalità. Quindi chiaramente io faccio come recruiter e appunto quando abbiamo cominciato a parlarne, correva il maggio 2010, quindi sono dieci anni, cominciamo a parlare. Avevo aperto, era nel primo anno di start-up e stavo bestemmiando tutte le lingue del mondo. Immagino. Ok. Io stavo cercando di portare all'attenzione il fatto che stavamo per ricevere una trambata pazzesca come... Certo. Come sistema, esatto. Come operatori del recruiting. Sarebbe arrivata questa ondata in maniera molto forte e era necessario avere gli strumenti, quindi una cassetta degli attrezzi da parte del recruiter che fosse attrezzata anche per questi strumenti. Quindi in primis avere consapevolezza della propria identità digitale, che è identità professionale, che è identità privata e che permette di stabilire il tuo famoso personal brand. E sei tu che lo puoi orientare, no? E sei tu che puoi andarti a scegliere un tuo pubblico e sei tu che devi scegliere come posizionarti. Ed è una competenza. Ah beh, sì, perché tu hai due possibilità. O lo subisci, cioè subisci quello che dicono gli altri, o lo costruisci. O lo costruisci. E puoi fare errori in ambe due parti. Ah beh, certamente. Perché nel costruire puoi sbagliare a costruirlo, nel subirlo però sei proprio parte passiva di un processo reputazionale che ti coinvolge. Ma infatti spesso e volentieri mi capita una domanda, eh ma io ho il profilo su LinkedIn ma non mi chiama nessuno. Poi vai a vederlo e ci sono due problemi di fondo di base, no? Ho un profilo molto scarno, da cui si capisce molto poco, molto gergale, senza foto, senza nessun tipo di informazione rilevante, col sommario scritto, come dire, la malapena. È uno strumento di comunicazione, in quanto tale va pensato, scritto, rifatto, rimisurato di volta in volta. Quando noi parliamo di LinkedIn SEO ci prendevano in giro, no? Tutto quello che non c'è nella descrizione. Non esiste. Non c'è, cioè se tu sai, c'hai scritto Chief, Executive, Salamintia, Antani, Papiocco, UX e quello, il recruiter cerca grafico con esperienza, non te trova, cioè c'è poco da fare. Assolutamente. E dall'altra parte dicevi? E dall'altra parte c'è il tema del, quello che è il, come dire, il contraltare, il fact c'è che è il CV. Ovvio. Tu mi hai detto sul CV che io ho ricevuto nella mia casella email, che sei CEO, sa il cavolo di questa cosa, poi io vado a vedere lì e magari ci può anche essere nel profilo un qualche indizio che mi permette, ma il tuo profilo è morto, inteso che non hai vissuto, non posti mai, non partecipi ai gruppi, non commenti, non hai nessun tipo di attività relazionale, mi dici che sei una persona di vendita assolutamente inserita in quel settore, vado a vedere i 30 collegamenti, che portafoglio hai, che relazioni hai, che settore hai, cioè pensare di mantenerli dentro al proprio cellulare o nella rubrichetta cartacea, in questo momento non è una buona idea, quindi il profilo LinkedIn sì, va ben curato, ma va vissuto, va vissuto quotidianamente. Va gestito. E va gestito. Più che vissuto, perché io conosco gente, no ti spiego perché, perché lo dico io poi e poi perché, noi abbiamo spessissimo gestione di portfolio di manager di grosse aziende, portfolio significa che prendi prima e seconda linea hai da gestire 60 persone di un'azienda e il problema principale sono due normalmente, il primo dire perché devono averlo, che ormai è diventato un perché non puoi non averlo, perché sennò ovviamente non ci sei e ne va, non dico che sia corretto, ma ne va della credibilità dell'azienda, cioè il fatto che tu non ci sia. Infatti poi toccheremo l'argomento del employer branding. Infatti poi il passo successivo è l'azienda cosa c'entra. Certo. E non puoi, soprattutto per passaggio generazionale, noi continuiamo a raccontare, ma adesso se ne accorgono, che nel passaggio generazionale il tuo gestore di fondi, se non lo trovi su LinkedIn, non ti fidi perché tu non vuoi un gestore che non esista, ma questo lo raccontiamo. E due, quando ti dicono devi essere attivo, non è devi essere attivo perché deve piacerti, devi essere attivo perché una cosa del genere va mantenuta viva, c'è bisogno di un processo. È un elemento strategico, è una strategia. Esatto, stavo per dire, c'è bisogno di un processo che scriva una strategia di posizionamento, che può significare anche solo un post ogni 15 giorni, cioè un post ogni settimana. Ma sei rilevante. Ma nemmeno anche tua opinione, basta content curation, cioè il fatto di prendere quell'articolo che fa capire che tu su quella cosa, cazzo, sei sul pezzo, esatto, dove dici bella questa riflessione del The Economist. Vai a vedere qualcuno che ti dice no, non è bella o che fonte di merda che prendi è il The Economist o Arba Business Review. Però questa cosa, quando inizi però a dire è un processo di gestione, è una manutenzione di un asset aziendale, scatta qualcosa. Allora tu fai la manifestazione, cioè hai gli estintori, sì, fai manutenzione, sì, perché se no non serve niente, perfetto, allora così lo capiscono. Quello che non capiscono per svoltare proprio all'ultimo giro che vorrei fare un attimo con tale, è più importante per te o per l'azienda? Domanda. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere? Allora. Alzata proprio così, vai, schiaccia libera, porta libera. È, deve essere un processo che porta vantaggio a te e all'azienda. Cioè ci deve essere la e lì in mezzo, non è previsto nessun altro operatore. Perché se non lo porta a te non sarai mai autentico e credibile. Quindi deve essere, come dire, io cito sempre Foscolo, no? Deve essere una comunione di amorosi sensi. Quindi ci deve essere la tua autentica intenzione di andare a comunicare in quella direzione perché tu per primo ci credi. Sì, e da un certo punto di vista l'azienda che ti aiuta a gestire la tua comunicazione è come se ti pagasse delle rate di un mutuo, perché la tua reputazione te la porti via anche nell'azienda successiva. E qui arriviamo al punto che volevo fare dopo. È importante per l'azienda perché l'azienda, cioè ricordiamoci sempre che sotto a Matteo Flora, Silvia Zanello, qualsiasi altro nome su LinkedIn, c'è il nome dell'azienda. Cioè è un, come dire, è una mina vagante quel nome. Ogni dipendente è una spoke person. Capito? Cioè noi ci preoccupiamo di dare delle linee guida al CEO e al direttore vendite. Quando in realtà poi il reach, il bacino potenziale di persone e l'influencer è spesso una persona che non è in prima fila. Sì. E ha molto più connessione, molto più credibile, molto più autorevole. Quindi è importantissimo valorizzare le persone. E in questo, come dire, quest'anno è stato un anno prolifico a livello di libri, perché l'altro libro scritto con Luigi Centenario a giugno si chiama Personal Branding per le organizzazioni, per l'azienda. Quindi è pensato per le organizzazioni, in questo caso per l'editore Öpli. Sì, sì, tu continua, io lo cerco qua, tu continua a chiacchierare. Sì, sì, vai tranquillo. Ok. Che però può essere soltanto un win-win autentico. Cioè se io sono motivato, ritrovo coerenza nei valori della mia azienda, sarò anche il primo che volontariamente e, come dire, volentieri andrò a veicolarli. Dall'altra parte l'azienda mi deve mettere nelle condizioni di non costringermi, non tapparmi la bocca, far sì che davvero io possa diventare un portavoce, poi avrò livelli diversi, avrò esposizioni diverse, farò, come dire, le mie scelte. Però che l'azienda punti sulla valorizzazione del collaboratore non è soltanto una strategia di comunicazione e di facile marketing, ma è una strategia di lungo termine rispetto ad avere candidati e collaboratori motivati e che davvero mettono la faccia letteralmente quando vanno dal cliente. Ok, nel frattempo abbiamo messo il… Fantastico. E scambio anche, un secondo che cambio il QR code, che sennò è sbagliato. È quello precedente. Esatto. Allora, nel frattempo abbiamo messo, vediamolo qui. In tutto questo c'è un paradosso, ma come? Ah, ciao Luigi. Eccoci. Ma come? Tu, azienda, vai a valorizzare quella persona, ma te la ruberanno, ma verrà qualcun altro a prendertela, ma come? Gli dai gli strumenti per rendersi più occupabili, lavori sulla sua employability, vuol dire che non ci teni. Ma secondo voi, uno che se ne vuole andare, non se ne va già da solo e non sarà invece in qualche modo più motivato a restare, proprio perché l'azienda gli dà più libertà d'azione, cosa che, come dire, difficilmente in questo momento si trova, no? Quindi è un sanissimo bagno di realtà. È un po' come quando sono entrata, dieci anni fa, appunto, in Adequitalia, no? Dobbiamo portare innovazione, ok? Cominciamo i social network, ah, i miei social network sono chiusi. Sì, classico. Dieci anni fa era normale. Facciamo un progetto di employer branding su LinkedIn, perfetto. Non riusciamo a fare il progetto di employer branding su LinkedIn, perché LinkedIn è bloccato. Ma porra! Quindi, dieci anni fa era assolutamente normale. Io ho avuto la fortuna che mi è stata data fiducia e tempo due mesi abbiamo sbloccato tutto, però, ripeto, lo puoi fare soltanto se come azienda ti metti in discussione. Lì devi avere un management, non dico illuminato, ma quantomeno aperto e disponibile, anche a rischio, perché è evidente che dare in mano il tuo brand a 100, 200, 1000 dipendenti è chiaramente un'assunzione di responsabilità. Innanzitutto dimostri di aver fiducia nelle tue persone, poi dai loro gli strumenti per muoversi e navigare in maniera, come dire, accorta. E da ultimo eviti il problema, perché il problema ti può nascerlo ugualmente, perché non è che improvvisamente quella persona non avrà i why, no? Nel mio caso, vedevo che cercavi su LinkedIn il mio profilo. No, no, ma lo mettevo per dopo. Ok. Tranquilla. Non è che non avrai più il tuo job title e la tua azienda sotto, quindi di fatto siamo tutti portavoce e in qualche modo questa disponibilità e questa maggior fiducia può giocare a favore e della persona, che si può più qualificare e più risultare professionalmente appetibile, ma come fornitore, come potenziale collaboratore, come persona. E dall'altra parte l'azienda interessa proprio perché va a fare leva su motivazioni molto più personali e molto più sentite, molto più rilevanti. No, sono assolutamente d'accordo, ma non solo. Poi spesso quello che succede con noi è il fatto che l'azienda si accorge, ad esempio, molto più becera, cioè tu sei molto, io sono molto un po' più beccia, si accorge ad esempio che con 5-6 mila euro spesi in advertising su alcuni social network ha una reach ridicola, se riesce a motivare 20 persone a ricondividere lo stesso contenuto magari in maniera strutturata e noi facciamo progetti strutturati di outreach, significa che gestiamo i profili di centinaia di dipendenti per dare la possibilità con applicazioni esterne di vedere che cosa possono condividere e condividere con un click, lo fanno loro ovviamente, non è che fai tu per loro, a meno dei grandi manager dove ti dicono, fammi curation, e lì ottieni risultati che sono ordini di magnitudine dove per ottenere la stessa visibilità pagando non hai il budget di ATL per farlo, non il budget di social. E ti dirò di più, cioè al di là del tema di bacino c'è un tema di engagement e credibilità, cioè se lo condivido in mio pari che è mio amico, o di cui mi fido perché è chiaro che poi la conversione è più alta. Quindi mi sembra veramente l'ABC, oltre che numerico qualitativo, no? Lo è assolutamente l'ABC, ma tante aziende comunque si fermano al non mi piace, no ma non mi fido, esatto, e sono tutte cose che prima o poi dovranno ritornare a essere discusse, perché se una cosa abbiamo visto per adesso è che le reti vendite non sopravvivono senza LinkedIn, che tu controlli il tuo venditore online. La prima cosa che fai quando qualcuno ti dice, ma la prima cosa che faccio io, la prima cosa che faccio io, domani incontriamo Silvia Zanella. Ah ok, cosa fai se non conosci Silvia Zanella? Silvia Zanella su Google Invio e se non è il primo o il secondo dei link che trovi è Linkedin e vai da Linkedin e vedi, ma che cazzo è, c'è solito risposta. E questa cosa va capita, va capita che spesso e volentieri la prima immagine che noi abbiamo di un'azienda è la persona che incontriamo e che è più facile che noi cercheremo online il nome e l'arcognome della persona prima dell'azienda. Il sito corporate, certo. Il sito corporate lo vediamo dopo, perché? Ma forse non lo vedremo neanche mai, perché poi ci hai convinto in qualità di persona o non ci hai convinto, viceversa, e quindi non faccio neanche il secondo step di andarmi a vedere un documento che è giocoforza pubblicitario. Ma è assolutamente quello, il trust nel sito web corporate è lo stesso della pubblicità tradizionale, cioè infimo. Quindi in realtà, sempre più spesso, soprattutto nelle reti che vendono qualcosa, prodotto, servizio, persone, non importa, quello che hai come raffronto è la persona. Dalla persona desumi l'azienda. E questo giro, devo dirti la verità, ancora poche aziende illuminate l'hanno capito, che dalla persona desumi l'azienda. Ma è il motivo per cui per me il personal branding dei collaboratori è una colonna fondante della strategia di branding. E ti dirò di più, è una del... E di corporate branding. Esatto, è una colonna portante della strategia di branding. E finché non capiremo che l'azienda, sempre più spesso, ritorniamo all'inizio, ci saranno dei lavori che faranno delle AI. Tutti gli altri, compreso il lavoro probabilmente di iniziale vendita o di proposizione di... no, proposizione di vendita magari la AI ci arriva, ma la vendita vera, la faranno le persone. Soprattutto se sono grosse commesse o qualcosa che non compri online. La sofisticazione, cioè ragazzi. O qualcosa che ha bisogno, esatto, di una personalizzazione elevata. Lo fai attraverso le persone. Le persone raccontano la tua azienda di più di quanto tu come azienda racconti la tua azienda e soprattutto io mi costruisco una informazione, una visione, parlo di determinate cose di un'azienda attraverso le persone che conosco. Quindi, considerando che la reputazione è una condivisa comune percezione fatta da quello che la gente dice, la mia reputazione è fondata principalmente sulle persone. È esattamente questo. Per fare questo, tanto investimento sulle persone, tanto investimento sul futuro del lavoro. E quando è che scrivi un libro sul futuro del lavoro? Eh, siamo in consegna. Oh! L'avevo detto che il 2019 sarebbe stato un anno particolare e infralistico. Sì, esatto. Però, appunto, ho avuto davvero la fortuna. Ma è un anno di soddisfazioni, però, dai. Sì, sì, sì. Di occasioni e di soddisfazione. È stato un anno di opportunità, davvero. Di opportunità. Ogni volta che dici opportunità c'è il padulo sempre dietro, però... No, no, in questo caso, come dire, per ora nessun padulo, quindi confidiamo di arrivare e mangiare il panettone. Fantastico. Sì, sto scrivendo, appunto, ho avuto la straordinaria opportunità di essere invitata a un TEDx a maggio e di poter parlare di futuro del lavoro e tecnologia. Allora mi sono chiesta quali fossero, diciamo, le caratteristiche per me. Quindi ho dovuto fare veramente mente locale e dire, ok, sono anni che parlo di questa cosa, sono anni che parlo di digitale applicato al lavoro, sono anni che parlo di social recruiting. Ok, ma cos'è l'istintivo veramente, no? E quindi mi sono trovata a pensare al concetto di femminile, non tanto legato al genere, quindi non sto minimamente parlando né di donne né di uomini, ma sto cercando di capire quali siano i tratti emergenti della leadership da un lato, dell'organizzazione del lavoro dall'altro e del modo di lavorare che saranno in qualche modo più efficaci nel mondo del lavoro del futuro. E ho trovato che il femminile, intendendo tutta una serie di tratti che possono andare dall'inclusività, l'empatia, l'ascolto, la collaborazione, la comunione di idee, l'apertura, la vulnerabilità, la fragilità, siano tutte, come dire, atteggiamenti e predisposizioni che possono aiutare nella volatilità del contesto di mercato attuale, no? Quindi un approccio invece verticistico di comando, di mera esecuzione, a mio avviso non è più, come dire, efficace, banalmente. E quindi trovo che la femminilizzazione del futuro del lavoro sia la chiave, e diciamo la visione del femminile sia la chiave per poter, diciamo, disegnare un futuro del lavoro migliore. E quindi sto scrivendo questo libro che uscirà nella primavera prossima. Io direi che arrivati a 45 minuti sono dei fottuti eroi, la parola finale è QR code, così almeno vi lascio il profilo LinkedIn dove ti trovano, dove tra l'altro scrivi anche abbastanza spesso, quindi seguitela magari invece che... Sì, infatti ho messo Connecting, invece che follow appositamente. Io è mio perché inizia a essere affollato, lì trovate il QR code di quello, credo, almeno se l'ho messo giusto, altrimenti è YouPorn, ma va bene uguale. Prima o poi lo farò questa cosa. Lemon Party, non andate a vedere Lemon Party. No. Senti, i libri li abbiamo già detto, Digital Recruiter, quest'anno due sono Digital Recruiter, quello con centenario di nuovo, scusami. Personal Branding per l'azienda. Personal Branding per l'azienda. Se ti vogliono seguire qui, aspettiamo con ansia l'altro che sarà, boh, quando uscirà? Dovrebbe uscire tra aprile e maggio. Ok, magari poi ritorni a raccontarcelo. Volentieri, volentieri. Senti, grazie tante della chiacchiera. Grazie a voi, ho un ultimo messaggio, se posso. Questo momento di confronto con Matteo è stato possibile, grazie a Matteo, che nel luglio scorso ha fatto una, come dire, una chiamata alle armi, dicendo, care donne, io non vi vedo, non vi ospito, non riesco a intercettarvi, non è che vi offrite o che mi segnalate qualcuno. E io penso che, e io ti ho scritto subito. Sì, ciao ci sono. Ciao ci sono, e ho anche n altre ragazze e signore da segnalarti. E secondo me è un po' anche un messaggio che vorrei dare a tutte, no? Magari siamo un po' prese, un po' più timide o pensiamo mai di non essere all'altezza, no? E invece, perché no? Io ci ho provato e siamo qua. Ma sì, per me era fondamentale, non per altri, ma guarda, non tanto per il 50-50%, ma per il punto di vista. Esatto. Che è molto diverso. E tra l'altro, lo trovi... È uno dei principi. Esatto, lo dicevi col libro. È proprio un punto di vista differente. Secondo me non è tanto il bisogno di dare spazio, cioè non sono, non sono un, diciamo, per le quality a tutto, cioè, algoritmica, mettiamola così. Anche se probabilmente va fatto un enforcing algoritmico in alcune cose in cui non succede altrimenti. Però, dall'altra parte, proprio punti di vista. E ti assicuro che da host, in questo caso, caspita, è difficile. È difficile perché... perché non c'è questa mania un po' più ad apparire, non c'è questa mania a lanciarsi. Su dieci richieste che ho di... dai, facciamo qualcosa assieme, nove sono uomini. Un po' perché è STEM e sappiamo che è un problema anche universitario e statistico. A monte. Cioè, se il 20% degli iscritti nei materi STEM sono donne, è già adesso magari due e venti. Però da quel punto di vista siamo qua, io sono qua, venite, chiacchieriamo, eccetera. Sono viva e quindi si può fare. Ma sì, ma figurati. Senti, grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi. Si occupa di HR in EY, scrive tantissimo e bene, seguitela. Poi, se volete qual è la qualifica corretta, c'è su LinkedIn, credo. Oh, aspetta, no, ce l'ho qua davanti. Allora, no, ci dovrebbe essere. Head of Employer Branding and HR Communication Italy Spine Portugal di EY. Grazie. Grazie mille a voi. Io chiudo dicendovi, come al solito. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia cinque giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia. Su podcast, su YouTube e su Facebook, ma anche su newsletter. Te lo trovate tutto a www.matteoflora.com Grazie mille per averci ascoltati e state parati. Ciao. Ciao Internet. Ogni giorno insieme a Matteo Flora. Reputazione, sicurezza e storytelling per capire come la rete ci cambia. Su podcast, YouTube e Facebook. Iscriviti su www.matteoflora.com Allora, insieme a Matteo Flora. Grazie a tutti.